Le aziende sanitarie italiane, a cominciare da quelle pubbliche, stanno affrontando una stagione di grandi cambiamenti. Da un lato ci sono le opportunità, le risorse, gli incentivi al cambiamento dei modelli di assistenza che vengono dal PNRR. Dall'altro abbiamo molti sistemi sanitari regionali che stanno ridefinendo il ruolo che la formazione e l'aggiornamento continuo devono avere non solo ai fini della selezione e valutazione dei direttori e delle direttrici, ma anche della qualificazione dei loro profili e dell'aggiornamento delle politiche di remunerazione. In questo contesto le direzioni strategiche aziendali hanno sempre di più la necessità di partecipare a percorsi di approfondimento su temi di frontiera, ma anche di confronto e condivisione di buone pratiche di innovazioni già implementate e infine anche di avere l'occasione di compartecipare alla riprogettazione dei modelli di servizio.